la giro mitra in full allo staccata vedete la classica mitra come la forma del copricapo papale il gambo è di una tonalità più chiaro di nocciola con questa specie di pruina di velatura biancastra cresceva chiaramente su materiale marcescente su questo ceppo quindi giro mitra in fulla sta iniziando a piovere tra un po me ne vado ma ve la volevo far vedere un bel fungo un fungo veramente strano un fungo che un aspetto tossico secondo me proprio non viene voglia di mangiarlo per fortuna perché un fungo altamente tossico per via della giro mitrina ve ne parlerò in un prossimo video lo devo girare ma questo è un assaggio giro mitra in fulla